I lavori di rifacimento del Corso San Giorgio di Teramo sono partiti un anno fa. Nel presentare il cronoprogramma, l'amministrazione allora rassicurò la città che l'intervento si sarebbe svolto in tempi rapidissimi. Così non è stato. Furiosi i commercianti che da subito hanno lamentato una lentezza esasperante da parte della ditta appaltatrice e poi ci si sono messi ritrovamenti archeologici e la neve e insomma si passeggia ancora sul massetto e sui tombini a vista e non si vede la fine. La neve non c'è più eppure i lavori sul Corso non riprendono. Che succede? Succede che stiamo aspettando la perizia di variante da parte del direttore dei lavori. Non sempre la politica si può sostituire ad altri ruoli. Ma che cos'è questa variante? La variante è perché nel fare tutti i lavori che vedete molti di questi lavori non erano previsti sul precedente progetto. E quindi di conseguenza la ditta ha affrontato dei lavori diversi da quelli da progetto e quindi vanno valutati e pagati. È una questione a me di giorni perché sto sollecitando appunto tutta questa documentazione e la pretendo. E per il corso vecchio, per il corso dei Michetti? Il corso dei Michetti. Se prima qui non diamo una risposta concreta di pavimentazione e quindi di fruibilità di questo corso, non parliamo di rompere altro se prima non sia giusto a questo. Ma perché non combattiamo un po' questa burocrazia? È una burocrazia che ci attanaglia, ma non Terra, ma attanaglia il nostro Stato, il nostro sistema, che purtroppo è fatto di documenti su documenti e purtroppo sono indispensabili per poter mandare avanti un lavoro del genere. Molte volte un progetto si inizia e per finirlo non passano troppi anni. Il progetto di ripavimentazione del centro storico di Teramo riguardava anche il corso dei Michetti. Si riguardava perché, vista la difficoltà incontrata sul corso San Giorgio a causa dei ritrovamenti archeologici, sarà molto improbabile intervenire nello stesso modo sul corso vecchio.